Il SINAP, Sindacato Nazionale Autonomo Pulizia Penitenziaria, proclama lo stato di agitazione con SITIN dinnanzi alle case circondariali della Regione Abruzzo. Si parte dall'Istituto di Pena di Pescara, dove le problematiche sono legate alla carenza di organico, puliziotti previsti 166 in forza, 114 alla ridotta capacità degli agenti di poter assolvere correttamente i propri compiti istituzionali. Ormai da anni, dicono Alessandro Luciani, vice segretario SINAP e Abruzzo, e Raffaele Pellegrino, segretario generale vicario, denunciamo le gravissime carenze di personale non solo a Pescara, ma anche a Teramo, Sulmona, Lanciano, Chieti, Vasto, situazione che ovviamente col Covid si è aggravato ulteriormente. Le criticità, in primis, sono la grandissima carenza di personale che ad oggi attanaglia tutta la Regione Abruzzo. Parte questo sit-in da Pescara, in quanto nei giorni scorsi abbiamo avuto un focolaio Covid, che attualmente è in corso, ma sta rientrando. Ci sono 15 casi Covid, la direzione a seguito delle nostre richieste, grazie anche ai mezzi di stampa, colloqui con il prefetto e quant'altro, ha ascoltato ed ha provveduto a mettere in sicurezza l'istituto. Partiamo da qui per dire basta e chiediamo l'invio di personale. Insomma, mi pare di capire che la carenza del personale è una questione fondamentale, anche perché purtroppo si sono registrati anche dei casi di aggressione, ora ci si mette anche il Covid. Insomma, la situazione per voi non è semplice. Lavorare in un contesto dove comunque si vive e si tocca con mano la precarietà, dove comunque il carcere ormai è divenuto un contenitore, non è null'altro, allora noi vorremmo volare meno alto e cercare più semplicemente di riqualificare e di avere una nuova dimensione del nostro lavoro. Questo è quel problema che maggiormente si avverte negli istituti dell'Abruzzo. Non è più possibile, non è più sostenibile continuare a avere una relazione con l'amministrazione, dove appunto si chiede invio di personale e poi comunque resta tutta corrispondenza in Evasa. Bisogna nuovamente riportare al centro la qualità, la dimensione lavoro della Polizia Penitenziaria per rendersene conto se quale è effettivamente la nostra condizione, il nostro disagio, altrimenti sembra tutto molto pretestuoso. Grazie.